Ciao a tutti, io mi chiamo Angelina Mango e sono una cantautrice per metà lucana e per metà milanese e scrivo canzoni che parlano di me, della mia storia, anche se nessuno me l'ha chiesto in realtà. Sono molto contenta di potermi esibire alla finale di Musica da Bere il 14 di ottobre a Brescia. È un onore per me e sono felicissima perché con me ci sarà la mia band, che è anche la mia famiglia praticamente. Noi siamo molto uniti e credo che il live sia forse l'elemento più importante del mio progetto. Non so come dire, ma il live è la cosa più sincera che si possa fare, è la cosa più rispettosa che si possa fare per un progetto musicale, per la musica. Io credo che il live sia anche un po' il futuro della musica, nonostante sia stato il passato e sia ora il presente, però il live è qualcosa che non finirà mai e non ci sarà bisogno di nient'altro se non di quello. Quindi, niente, io ringrazio ancora tutti per avermi dato questa possibilità e ci vediamo lì. Un abbraccio, ciao!